Sì, le consultazioni è solo il termine che mi fa ridere, perché si consultano e poi non capisco neanche che cosa potranno dirsi durante queste sedute inutili che non hanno prodotto assolutamente nulla, d'altronde non possiamo prendersela con Mattarella che si trova di fronte a una situazione politica che definirei comica. Poi si mettono lì in una stanzetta, scrivono giù un comunicato, uno lo legge… Inutile. Inutile. È stato bello però il siparietto di Berlusconi, che lettura dai? Uno, due, tre. Mi è sembrata una delle solite sceneggiate di Berlusconi che quando si annoia cerca di trovare degli elementi umoristici per elettrizzare la situazione, credo che ci sia riuscito anche questa volta, anche se non riesco ad attribuire a questa sceneggiata dei significati particolarmente importanti. Sono stati tutti a ricamarci su sta roba? Eh, titoli sui giornali, interpretazioni, analisi approfondite. Io sinceramente non ci ho visto niente di stravagante se non la bizzarria di Berlusconi che quando non è il protagonista di una scena cerca comunque di rubare un posto per farsi notare. Questo ha fatto, punto è chiuso. Si parla di un possibile governo del Movimento 5 Stelle perché Di Maio avrebbe perso la pazienza con l'appoggio del Partito Democratico. Credo che la cosa sia praticamente impossibile perché Di Maio dispone sì di un compatto 33%, come tutti sappiamo, mentre il Partito Democratico è molto diviso. Ci sono i Renziani che rifiutano una ipotesi di collaborazione con il 5 Stelle. Poi invece ci sono quelli come Franceschini, Orlando, eccetera, che invece avrebbero una voglia matta di ritornare sul palcoscenico. Però i Renziani sono numericamente più massicci e quindi non riesco a capire come si possa costituire una maggioranza tra 5 Stelle e Partito Democratico senza i Renziani che sono la maggioranza. Pertanto vedo impossibile una collaborazione che possa dar luogo a un governo. Intanto Camera e Senato fanno poco o niente, tant'è vero che c'è chi si diverte a fare scritte sulla porta dei bagni e diventano scandalo. Sì, però cosa vuoi che facciano? In mancanza di governo, in mancanza di una guida, non ci sono proposte di legge da discutere, non c'è attività. È ovvio che comunque il Parlamento debba rimanere aperto anche se non fa niente, però non è una novità che il Parlamento non faccia niente e quindi non mi stupisco. Lo so che può essere scandalosa la cosa, però non possiamo sorprenderci da un fenomeno che abbiamo vissuto mille volte. E anche raccontato un po' tutti, no? Sì, raccontato addirittura con qualche eccesso. Purtroppo le elezioni sono andate come tutti sappiamo. Le elezioni non hanno espresso una maggioranza, non hanno espresso quindi la possibilità di formare un governo e tutte le discussioni alle quali abbiamo assistito non hanno portato a nulla, perché anche un'ipotesi di collaborazione tra Salvini, cioè tra la Lega e 5 Stelle è del tutto campata in aria, non potrà succedere niente tra questi due signori. Però c'è sta Siria che incombe, dicono c'è la guerra in Siria, dobbiamo avere un governo. Se tu parli con la gente per strada, nei bar, nessuno si è eccitato per la guerra in Siria, perché poi non è neanche una guerra, gli americani hanno fatto un bombardamento dimostrativo, non hanno ammazzato nessuno, quindi dove sia il pericolo di conflitto mondiale questo ce lo possono spiegare solo i commentatori dei giornali, che peraltro non spiegano niente e quindi vuol dire che questo episodio è destinato a… Quindi usano sta roba qua per far nascere un governo e basta? Sì, ma non credo che nascerà un governo perché sono scoppiati due petardi in Siria, io non riesco a immaginare che questo sia risolutivo. Senti, il Vin Italy, tutti lì a brindare, ovviamente importante è la presenza della politica al Vin Italy, visto che il mercato del vino… E' importante. E' importante. Però lì tutti sorridenti a fare il brindisi. Sì, in effetti quando ci si riduce… Tu hai scritto… Domenica si incontra hanno riferito all'incontro che c'è stato, tra le damigiane speriamo il Valpolicella aiuti. Gli aiuti sì, invece purtroppo anche il Valpolicella non è riuscito a compiere il miracolo, perché Salvini e Di Maio non potranno mai andare d'accordo, non sono andati d'accordo neanche bevendo Valpolicella, sia pure non insieme, in tempi diversi. Vin Italy è importante, però noi lo abbiamo caricato di significati che lo poteva avere. Credo che i vini italiani vadano molto bene e siano una risorsa importante per il nostro paese, ma forse i politici dovrebbero bere di più per essere ubriachi almeno per un motivo, per aver ingerito del vino, invece sono ubriachi anche quando sono sobri. Si, c'è da chiedersi come facciano. Si, sono bravi, praticamente noi abbiamo una classe politica di livello bassissimo, basti pensare che il primo partito è il Movimento 5 Stelle capitanato da un signore che si chiama Di Maio e che non ha mai lavorato in vita sua, non mi sembra particolarmente ferrato in grammatica e in geografia e noi pendiamo dalle labbra di un personaggetto del genere e questo mette un po' di… Ma è pericoloso o solo ridicolo? Perché se fosse solo ridicolo ci ridiamo e buonanotte. Per il momento è solo ridicolo, però se dovesse diventare premier, cosa che escludo, allora potremmo anche scadere in qualcosa di più grave. Reddito di cittadinanza per esempio? Reddito di cittadinanza è un cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle, così come per la Lega, il cavallo di battaglia per Salvini è stata l'aliquota unica, ma al 15%. Credo che nessuno dei due possa rinunciare al proprio cavallo di battaglia e se dovessero mettersi insieme invece dovrebbero rinunciare anche all'equino e questo li porterebbe indubitabilmente a perdere dei consensi. Quindi non si farà niente, non ci sarà nessuna collaborazione tra 5 Stelle e Lega e aspetteremo qualche idea di Mattarella che non apre, che quando tu non disponi di partiti che godano di una maggioranza a chi affidi il governo. Adesso si parla della Casellati di Forza Italia, che è il partito che insieme col PD ha perso maggiormente alle elezioni. Questa povera donna cosa vuoi che faccia? Con chi vuoi che metta insieme una maggioranza? Escludo che si arrivi ad avere un governo, forse si potrebbe avere un governicchio destinato a durare pochi mesi, giusto il tempo per rivedere una legge elettorale che più cretina dell'attuale non c'è. E' per questo che non vogliono farci votare? No, ma se anche andassimo a votare fra un mese con questa legge elettorale… Sarebbe punto a capo? No, noi avremmo un risultato fotocopia di quello ottenuto il 4 marzo, quindi sarebbe un esercizio totalmente vano. Di immigrazione non si parla più, non è che sono diminuiti questi signori? Se ne parla ancora perché hanno dissequestrato quella nave che faceva quel lavoro nel mare e quindi potrebbe riprendere qualcosa. Mi auguro che il Ministero dell'Interno che ancora è attivo per le attività di ordinaria amministrazione si attrezzi per evitare che si continui a imbarcare gente che poi viene qui, non sappiamo dove mettere, la buttiamo per strada, gli immigrati non hanno un alloggio, pisciano nelle aiuole… In questi giorni a Milano no, perché c'è il Salone del Mobile, quindi ho visto che hanno tirato a lustro la città giustamente per questo evento importante che richiama gente da tutto il mondo. Poi è economicamente fondamentale per il nostro paese, perché noi nella costruzione dei mobili siamo considerati un'eccellenza e quindi è giusto… Abbiamo tante anche mezze seghe, però siamo dei bravi di fare gli ammi… Sì, certo, le mezze seghe non mancano mai, però ci sono anche dei personaggi che sono capaci soprattutto di vendere all'estero e quindi di incrementare… Ti hanno invitato a qualche evento, andrai? No, mi hanno invitato a Venitaly, ma quando sono arrivato a due chilometri dalla fiera di Verona sono dovuto tornare indietro perché si era creata una paralisi del traffico e io mi rompo i coglioni a stare in colonna, perché qui sono tornato indietro… Hai girato l'auto? Ho girato l'auto e sono andato a Sirmione, che è un posto meraviglioso e incantevole, ho pranzato in un ristorante magnifico che si chiama La Fiasca e dopo di che sono tornato a Milano. Alle tre e mezzo l'ho seduto tranquillamente alla mia postazione di Libero e ho ricominciato a lavorare, cosa che mi fa stare più a mio agio che nei padiglioni dell'alcol, anche se io non disdegno a bere dei bicchieri di vino. Invece fiera del mobile qui fuori salone andrai da qualche… No, me ne guardo bene perché io i mobili a casa mia li ho e non intendo cambiarli, per cui a me che a me frega dei mobili, apprezzo chi li fa e chi li vende, però non è che personalmente… Cioè non rincorri tu come tutti, quelli pazzi, l'ultimo grido, butti via le cose buone, le sostituiscono… Io i mobili più recenti che ho a casa mia sono dell'Ottocento, quindi non entro in questo circo. Senti, torna fuori il tema del razzismo, salvo poi essere una gran figura di M, per la storia della Chienge trovano degli escrementi… Cacche! Cacche, cacche, cacche! Negli escrementi nel giardino di casa sua e lei subito è la vittima, no? E' il razzismo, poi si scopre che era una guerra tra vicini che si tiravano la cacca. Sì, infatti la cacca, che è la Chienge, si è ritrovata nel proprio giardino, era la stessa del proprio cane, che era stata gettata nel terrelo di un vicino, il quale l'ha restituita al mittente. Quindi è stata una cosa abbastanza ridicola, non si tratta di razzismo, ma di lancio di cacche. Che tra l'altro avviene in tutte le zone dove… Cioè chi prende un cane deve sapere che il cane, come gli umani, fa la cacca e la cacca andrebbe poi depositata nei luoghi acconciuti. Però questa storia qua non è che ci insegna dove va depositata la cacca, ci insegna che forse qualcuno approfitta di questo gioco del razzismo. Si parla di razzismo anche quando non c'è, quando non esiste. Infatti in Italia non si è mai visto un negro ucciso da un bianco. Significa che tutto sommato noi siamo così un popolo tollerante, che non è assolutamente razzista, anche se qualcuno lo vuole far passare per tale. Però noi siamo anche pronti a diventare razzisti, perché con l'aumentare della immigrazione selvaggia, nel momento in cui la cifra degli immigrati dovesse superare le soglie di sicurezza, scatterebbero probabilmente anche degli episodi di razzismo, perché il razzismo fiorisce da dove ci sono dei motivi che lo incarnavano. Tu non hai mai incontrato qualche immigrato, anche di seconda generazione, per strada che ti ha detto, ma tu sei feltri pericoloso razzista? No, anzi, guarda, devo dirti questo, che io tutti i sabati accompagno mia moglie dal parrucchiere che si fa i ricciolini come fanno tutte le donne. Non andrà mica dai cinesi? No, vado a una signora che è anche un'animalista molto attiva, che si chiama Cristina e che è nativa di Bergamo. Dopodiché, finita l'operazione Ricciolini, io accompagno mia moglie al supermercato, che una volta si chiamava AGS, adesso ha cambiato onore, ma non mi ricordo com'è. Andiamo lì e io rimango in macchina, leggo i giornali, mia moglie va a fare la spesa, poi torna in macchina col carrello pieno spinto da un uomo di colore. Io lo chiamo Negro, ma senza cattiveria, il quale Negro, come mi vede, mi chiama, ciao Vittorio, amico mio. E perché mi dice questo? Perché io ogni volta gli do qualche Euro. Quanti? Due, tre. E la Madonna? Sì, perché solleva mia moglie dall'onere di spingere il carrello, poi carica la macchina. Vedo che è una persona di buona volontà, poi mi è anche simpatico, a me non me ne frega un cacchio che sia Negro, potrebbe essere giallo o verde, a me non mi interessa. E io ovviamente ho con lui un rapporto amichevole. Ti vuole bene per i soldi Vittorio? Va bene, ma non è che io cerco l'amore dei negri o dei bianchi, però mi sembra giusto dare dei soldi a chi ti dà una mano. Quindi gli do qualche Euro e lui è contento e mi chiama Vittorio, amico mio, quindi nessuno mi ha mai spuntato in faccia. Mi sembra che avere dei rapporti civili anche con gli immigrati sia un dovere, perché non è colpa loro se vengono buttati qua allo sbaraglio e poi non hanno neanche i mezzi per sopravvivere. Io purtroppo non riesco neanche a essere raggista. Certo che l'episodio del nero che spinge il carrello a tua moglie e tu gli dai 2-3 Euro mi ha inquietato. Con tutti i soldi che hai non ti puoi permettere qualcuno che va a fare la spesa per te. Io non voglio avere dei rompicoglioni a casa. Mia moglie gradisce recarsi personalmente al supermercato per fare le spese e io perché dovrei osteggiarla. dopo di che lei trova sempre questo signore nero che l'aiuta, ma i supermercati vivono di queste cose. Fuori da ogni supermercato ci sono dei personaggi di quello che fanno per loro. Sì, ma io mi sono sempre ben guardato dall'utilizzare. Non lo fai giustamente, però io che ci vado tutti i sabati assisto a queste cose. D'altra parte anche quei poveracci che vanno in giro in bicicletta a portare le pizze. Mamma mia, sottopagati. Sottopagati, a me fanno una pena terrificante. Tant'è che il sabato scorso abbiamo deciso, ma dai ci prendiamo 2 pizze. Allora telefoniamo alla pizzeria lì vicino a casa mia e dopo una mezz'oretta arriva un ragazzo in bicicletta o un motorino, non mi ricordo, e mia figlia scende al cancello a ritirare le pizze e le pizze costano pochissimo, 4 Euro l'una. Ne abbiamo ordinate 3 e allora do 20 Euro a mia figlia. Dico, tu che sei tirchia, cerca di non rompermi i coglioni, dagli 20 Euro e che sia finita, perché questo disgraziato sotto la pioggia che ci viene a portare le pizze, se non gli dai a me 4-5 Euro, scusa, per quale motivo dovrebbe stimarti? Tu glieli dai e vedrai che lui è contento e così è stato fatto. Ma penso che dovremmo fare tutti così, perché questi poveracci si lamentano perché hanno diritto un Euro per ogni consegna che fanno, a me sembra veramente umiliante dare un Euro, per chi fra l'altro si sottopone a una fatica micidiale anche nelle interperie, non mi sembra che di fare degli atti di particolare generosità, mi comporto nel modo che mi viene spontaneo. E di questa spesa del sabato, controlli lo scontrino? No, non controllo niente, anche perché noi, mia moglie ed io, spendiamo di più per mantenere la colonia di gatti che abbiamo in giardino che non per noi, perché alla nostra età mangiamo poco, spendiamo poco, non abbiamo… La spesa tipo qual è? Non lo so, non la faccio io, comunque spendiamo 50 Euro a settimana. Noi con 200 Euro al mese campiamo tranquillamente, perché non è il cibo che incide molto in una famiglia di persone di una certa età, sono i bambini che mangiano… Hai rotto i coglioni con questa storia della certa età? Se tu vai a vedere una persona di 70 anni non mangia mica come uno di 30, ma tu siccome sei giovane non lo sai, mangerai come un maia… Mangio tantissimo… Dopo quando vai su dieta non hai tutto questo appetito, quindi veramente si spende poco, quindi i soldi è meglio buttarli che tenerli lì a Marcina in banca, poi te li fregano… Ah beh certo, da parte o dall'altra te li fregano… Sì te li fregano… Senti, ma ai gatti chi dà da mangiare? Mia moglie e una signora che dà una mano a mia moglie a tenere in ordine la casa, perché vedi io, avendo avuto 4 figli, ho una casa grande, non ho una villa, come dice la Crozza, io non ho nessuna villa, ho una casa, però è grande, una casa di 600 metri che utilizziamo in decima parte e quindi cosa vuoi, ci vuole anche una persona che dà una mano a mia moglie che non ha 28 anni, ne ha parecchi di più, quindi la nostra vita si svolge così, senza contraccolpi, ma anche con una certa agiatezza che però non significa spreco. Questo è importante, che deve essere una lezione per tutti, perché i soldi se poi li butti via non tornano più. Senti, parlando proprio di soldi, l'altro giorno hai titolato record di risparmi, investimenti e case di proprietà, ma quali poveri? Gli italiani sono ricchi ma piangono miseria. è verissimo, è controcorrente questa roba qua. No, non è controcorrente. Scriverlo, so che è vero. Gli italiani hanno 2.700 miliardi investiti in fondi nazionali e internazionali e sono tanti soldi, sono superiori di gran lunga al debito pubblico, non solo, ma hanno circa 1.000 miliardi in depositi bancari. Non bastasse, l'83% degli italiani è proprietario dell'appartamento, dell'alloggio in cui vive, quindi una situazione generale di questo tipo non può farsi parlare di miseria. Certo ci sono anche quelli che si fanno mantenere, è pieno di fannulloni che non fanno un cacchio, si fanno mantenere dai genitori, dai nonni, questa è la verità. Però nonostante questo la tendenza risparmiosa dei nostri connazionali è molto marcata, per cui la situazione finanziaria è quella che in pochi dati ti ho espresso, non si può parlare di miseria. Tu devi pensare che un italiano, un pensionato su 2, 1 su 2, il 50% dei pensionati non ha mai versato una lira di contributi all'Inps, l'Inps, ciò nonostante percepisce una pensione non enorme ogni mese che viene regalata da quell'altro 50% che ha lavorato tutta la vita pagando i contributi, così come molta gente vive alle spalle di quei pochi che pagano le tasse, perché sono pochi quelli che pagano le tasse per davvero, tanto è che sono poco più di 300 mila gli italiani che denunciano più di 200 mila Euro di reddito, a te pare possibile? Basta andare in giro per strada, c'è pieno di Porsche, di Mercedes, di Audi che costano quasi 100 mila Euro e questi qui come fanno a permettersi certe spese se poi denunciano delle cifre ridicole. Come mai l'Agenzia delle Entrate continua a fare dei controlli a quelli che pagano le tasse e non controlla quelli che non le hanno mai pagate? Ti rispondi da solo, perché controllando quelli che pagano sai che te li pagano, anche se gliele chiedi di più. È troppo giusto? No, uno si sente coglione. Ma noi abbiamo un'Agenzia delle Entrate che vorrei chiedere che cosa fanno tutto il giorno se non controllare quelli che non vanno controllati e non controllano quelli che non vengono controllati, questo è vero. Sì, lì poi tutti dicono che riformano la cosa, Renzi è provato anche… mi guardi male… Sì, ma cosa vuoi sistemare? Perché gli italiani sono bravi a piangere, si piangono addosso anche se poi fanno una vita meravigliosa, perché basta andare all'estero a vedere come campano in Germania o in Francia come campano, non dico a Parigi, perché in Parigi è una cosa particolare, ma nelle campagne della Francia o anche in altri paesi, noi viviamo a livelli superiori, noi siamo dei gaudenti, mentre invece in altri paesi vivono veramente… Però è merito delle vecchie generazioni, perché le nuove mica hanno imparato ad accantonare… Ma vivono alle nostre spalle… Certo, hanno imparato l'arte dello scrocco… Eh sì, scroccano, i fannulloni… cosa succede? Che un ragazzo si laurea, tanto per cambiare, io cito scienze della comunicazione… Che poi crozza e ci si vive… Oppure anche in giurisprudenza, ormai sono più numerosi gli avvocati degli imputati, per cui è chiaro che se uno si laurea in giurisprudenza è destinato a… Se non è figlio di… che allora c'ha lo studio già avviato… Però non possiamo partire dall'eccezione per fare… Certo, certo, assolutamente… La regola è un'altra, benissimo. Allora, questi signori cosa fanno? Rimangono in casa con i genitori, quindi sono mantenuti dai genitori, i famosi fannulloni, se stanno in casa lavati, stirati, nutriti, in più si fanno dare quattro soldi dalla mamma che c'è la pensione, dal papà che c'è la pensione, dal nonno che c'è la pensione, dalla nonna che c'è la pensione, fanno la vita meravigliosa, non fa un cazzo, perché è questo… E allora i fannulloni sono numerosi, ma non solamente al sud, dove addirittura sono un oceano, ma anche al nord, quindi se non c'è la voglia di lavorare e di faticare, è chiaro che si vive a sbafo degli altri e purtroppo i genitori sono sempre portati a giustificare i figli e quindi a mantenerli finché non sono adulti… E poi i genitori che educano i figli così hanno perso la battaglia, perché questi non è che rissaviscono quando finiscono i soldi o quando crepano i genitori, no, si mangiano quel che resta dell'eredità… Sì, poi quando muoiono i genitori vendono la casa, poi si prendono un monolocale, in sostanza i fannulloni hanno la vita assicurata alle spalle degli adulti, alle spalle dei genitori, alle spalle della società, perché poi quando arriveranno a 65 anni prenderanno la pensione sociale, quindi in un modo o nell'altro, non brillantemente, ma camperanno sempre senza fare un tubo. Parliamo di banche, Montedipaschi di Siena ne hai parlato, riparlato, straparlato, hai raccontato anche di questi VIP politici, non solo, che si sono fottuti i 70 milioni. I partiti si sono fatti prestare molti soldi dal Monte dei Paschi di Siena e non li hanno restituiti, nel momento in cui la banca è saltata per aria è ovvio che i politici, avendo dei debiti nei confronti della banca fallita, dovevano proteggerla e lo hanno fatto, tant'è vero che è stata istituita anche una commissione parlamentare di inchiesta che non è arrivata a stabilire niente, anzi finita, chiusa, Casini ha detto che andava tutto bene, ma se andava tutto bene come ha fatto a fallire la banca, per quale motivo? Chi non ha restituito i soldi che si era fatto prestare la banca? Non è uscito un solo nome, quindi c'è stata una tendenza a proteggere, a coprire i disastri di una banca, disastri ai quali anche gli stessi politici hanno contribuito. Casini ce l'ha fatta, si è risistemato bene, casualmente… Casini non è uno stupido, intendiamoci, non è la prestigiacomo che è lì da sette legislature e nessuno ha capito quali siano state le sue opere che le hanno permesso di durare per sette legislature, Casini è uno che al mondo sa stare, con la politica ha saputo convivere, non è uno sciocco, quindi non ce l'ho con Casini, Casini gli ho rimproverato semplicemente la commissione banche, perché lì non ha veramente tirato fuori nulla, non ha scoperto nulla, non ha denunciato nessuno, quindi questo mi lascia veramente molto perpresso. Dimmi una roba, prima abbiamo parlato di lavoratori sfruttati, invece a Livorno gli operatori ecologici avranno il braccialetto elettronico. Si, ho letto anche io questa notizia, non ho capito bene che cosa serva il braccialetto elettronico, basterebbe avere senso civico, dicendo uno stipendio devi fornire una prestazione. Fa venire voglia di inventarsi qualcosa per bypassare il braccialetto elettronico? A me non piacciono questi mezzi che sanno di coercizione, però l'hanno accettato, aumentano. Messo che non faccio lo spazzino me ne frego. Ecco, e allora con tanta spazzatura hai a che fare anche tu? A quello non c'è dubbio, però la amministro più che spazzatura. Esatto, è l'ora che ti devo mandare a dormire, non perché hai 74 anni come ricordi ogni volta facendo… L'ora ne ho quasi 75, li compro a giugno. E' già passato un anno da quando mi hai ricordato? A giugno arriva fra un mese e mezzo. Quale regalo ti piacerebbe ricevere? Nessun regalo. No? No, no. Magari qualcuno a casa? No, i regali così, perché quando ho bisogno di qualcosa me lo compro. Perfetto. Dicevo, non per i 75 quasi anni, ma perché ho finito il tempo ti devo dare la buonanotte. Ci vediamo settimana prossima. E certo, sempre qui puntuali. Ne abbia neanche detto tante parolacce stasera. Mi dispiace, però la prossima settimana vedrai che vengo fornito. Va bene, d'accordo, grazie alla prossima. Buona serata a tutti.